Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale per un nuovo video. Il 18 febbraio 2018 avevo pubblicato questa recensione su Hype e parlando del grande fermento che sta vivendo negli ultimi anni la fintech, il mondo delle carte, degli acquisti online e delle criptomonete, vi avevo detto che secondo me ci sarebbe stata la sempre maggiore tendenza del mondo della finanza tradizionale a spostarsi a integrare anche i servizi nel mondo cripto, con carte che ci avrebbero consentito di spenderle direttamente eccetera eccetera. Sentite un po' in questo pezzo di video che vi aveva detto il vostro buon Alessandro. ...chain o qualche altro protocollo decentralizzato. La banca ci darà magari il wallet per gestire questi scambi in criptovalute oltre che consentirci di fare le normali operazioni in valute fiat. È una mia opinione, vedremo. Magari lo implementerà Hype stesso. Quindi con Hype... 2020 Hype integra nella sua app un wallet bitcoin grazie a una collaborazione con Conio, che è un'altra azienda italiana molto interessante su cui sicuramente ci farò un video, quindi se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e attivate la campanella. L'integrazione di un wallet bitcoin dentro l'app di Hype è solo una delle novità che poi sono state introdotte su Hype da quando ho fatto quel video, perché poi infatti ha introdotto la possibilità di fare bonifici in tutta l'area SEPA, ha introdotto delle funzioni per avere del cashback sugli acquisti quando si fanno con Hype, presso i partner elencati dentro l'app, il cashback cioè sarebbe un ritorno sui propri acquisti, ha introdotto la possibilità di pagare bollettini MAV e RAV, c'è anche il pago PA per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, pagare nei negozi direttamente con lo smartphone, ha integrato Apple Pay e Google Pay ed inoltre ha introdotto un nuovo piano chiamato premium oltre ad Hype Start ed Hype Plus ed ha modificato un po' le commissioni di ricarica. Vedremo adesso tutto nel dettaglio. Hype in pratica è una app carta conto tutti collegati di banca sella, che è molto conveniente, molto versatile e molto semplice da usare. Hype è anche per minorenni dai 12 anni in su. Praticamente avete un conto gestibile tramite l'app, collegato a una carta fisica che vi viene spedita gratuitamente a casa. C'è anche una versione web, però secondo me il modo più comodo di usarla è assolutamente tramite l'app, con cui potete fare pagamenti sia nei negozi tramite la carta, ma anche tramite lo smartphone, o tranquillamente pagare online. E questa carta è dotata anche di un IBAN, su cui nella versione Plus e Premium potete anche far accreditare lo stipendio. Hype nel 2019 ha vinto un premio come miglior carta conto e anche in passato. Non ha alcun costo di mantenimento e potete farci anche bonifici che sono gratuiti e ovviamente potete anche ritirare in contanti allo sportello. La Hype si ricarica o con bonifico, mandandovi un bonifico sull'IBAN della vostra Hype, oppure in contanti, anche se ci sono delle commissioni più alte, oppure ha la comodissima ricarica con altre carte, cosa che raramente altre carte hanno. E io ho la modalità che uso più di frequente perché è immediata, non devo stare a aspettare che mi arrivi il bonifico, a meno che il conto che uso per mandare il bonifico non abbia i bonifici istantanei. Quindi per la rapidità solitamente la ricarica con carta è veramente comoda. E prima questa ricarica non aveva alcun costo con nessun piano, neanche con la Hype Start, mentre adesso c'è un costo. Confrontando i tre piani, lo Start, il Plus e il Premium, le vedremo nel dettaglio. Hype mette a disposizione un interessante bonus di benvenuto che è di 10€, 15€ o 25€, a seconda che facciate lo Start, il Plus o il Premium, registrandovi da un link di invito, come ad esempio quello che vi lascio qui sotto nella descrizione. Il bonus vi arriva entro una settimana dalla prima ricarica che può essere anche di un solo euro. Quindi vi registrate da un link di invito, fate una ricarica di almeno un euro ed entro una settimana ricevete sulla carta 10 o 15 o 25€ di benvenuto, a seconda del piano che avete scelto. Una volta che avete cliccato il link per registrarvi, si fa tutto online, è veramente semplice la registrazione. Se fate i piani Plus o Premium c'è qualche passaggio in più, ma è tutto molto semplice e si fa tutto online. È solo una questione di riempire campi e inviare documenti e ricevere conferme. Si può fare tutto da smartphone, ci si fa un selfie e le foto ai documenti, oppure se non ci si vuole fare il selfie, si può confermare l'identità facendosi un bonifico da altro proprio conto. Basta che andate avanti con i passaggi indicati. Dopo poco vi arriva gratuitamente la carta a casa, la attivate e fate tutto in modo molto semplice. Con Hype ci fate tutte le cose che vi ho detto, ci fate praticamente di tutto. L'unica cosa che gli manca sono i bonifici fuori dall'area SEPA ed ha delle commissioni sui tassi di cambio, cosa che magari invece su una N26 avete più bassi o non avete. Ma questa è una cosa comune ad altre carte. Potete anche inviare ai vostri contatti che hanno Hype, cioè che sono Hyper, delle somme senza nessun costo e immediatamente. Un'altra cosa molto comoda. E un'altra cosa molto comoda che non c'è in tutte le carte è che avete i dati della vostra Hype tutti dentro l'app. Quindi anche se non avete con voi la carta fisica, comunque recuperate tutti i dati per fare ad esempio i pagamenti online direttamente dall'app. Come numero esteso, data di scadenza e se girate la carta dietro c'è il CVV. Con altre carte magari dovete avere dietro la carta fisica perché sull'app non ci sono questi dati. La sicurezza è fantastica perché voi potete lasciare bloccata la carta e non si muove neanche un centesimo finché voi non la sbloccate con un tap sull'app. Potete decidere di sbloccare pagamenti online o solo prelieve l'ATM o solo gli acquisti in negozio oppure bloccare o sbloccare tutto quanto. Si fa semplicemente con un tap sull'app. Allora, adesso vediamo un confronto tra i tre piani. Innanzitutto cambia il bonus di benvenuto, vi dicevo. 10 nel primo caso di Hype Start 15 per la Plus e 25 per la Premium Hype Start è completamente gratuito Plus costa 1 euro al mese Premium 9,90 al mese Ovviamente i limiti annui cambiano per la Start sono solo 2.500 euro movimentabili all'anno per il Plus potete arrivare a 50.000 euro annui mentre per la Premium non avete limiti Ovviamente c'è Google Pay e Apple Pay su tutte e tre I bonifici sono sempre gratis per tutti e tre mentre la ricarica con altra carta che prima era gratis in ogni caso anche con la Start adesso con la Start costa 90 centesimi mentre con il Plus e il Premium è gratis La ricarica in contanti dal tabaccaio costa 2,50 euro con lo Start 2 euro con il Plus e 1,60 euro con il Premium Pagamenti e prelievi all'ATM sono sempre gratuiti in ogni caso mentre sul cambio valuta avete un 3% sia con l'Hype Start che con l'Hype Plus mentre non avete commissioni sul tasso di cambio con il Premium quindi se spesso state all'estero vi conviene magari fare il Premium lo stipendio non potete accreditarlo sullo Start mentre potete farlo sia sul Plus che sul Premium La versione PC non è disponibile per lo Start c'è solo per il Plus e per il Premium le commissioni sul pagamento dei bollettini vanno da 1 euro a 2,15 euro per la Start da 1 euro a 1,99 euro per il Plus mentre non ci sono commissioni per il Premium con il Premium poi avete anche una polizza viaggi per assicurazione medica bagagli, ritardo e cancellazioni volo eccetera sui furti ATM polizza di protezione acquisti e assistenza prioritaria quindi se viaggiate spesso vi conviene avere magari la versione Premium per questi vantaggi oltre che per non avere le commissioni sui tassi di cambio l'attivazione di tutti e tre i piani è gratuita ma dopo il 30 giugno 2020 a meno che non ci siano proroghe sarà di 9,90 euro per il Premium qua vedete riepilogate tutte le differenze con anche i limiti e i costi allora andiamo a vedere adesso l'app una volta che vi siete registrati e poi che avete scaricato l'app sul vostro cellulare c'è anche lo sblocco con l'impronta digitale attivate tutte le sicurezze ed ecco qua l'interfaccia che è cambiata rispetto al passato in alto avete il saldo quanto potete ovviamente spendere poi avete questo pulsante per fare la ricarica vedete c'è la ricarica in contanti col bonifico e se premiamo il bonifico ci dà il nostro IBAN e gli altri dati e basta farci un bonifico con altro conto su queste coordinate bancarie e lo riceveremo con i tempi del bonifico se avete quelli istantanei nel conto mandante vi arriveranno subito altrimenti ci vorranno due o tre giorni c'è anche la ricarica con altra carta che invece è istantanea e basta che aggiungete qui sul più un'altra carta ci mettete i dati dell'altra carta autorizzate il pagamento e vi arriva la ricarica immediatamente e questa è molto comoda come modalità le commissioni sono quelle dei tre piani che vi ho detto quindi 90 centesimi per la start e gratuite per plus e premium quassù avete un riepilogo in questi tre quadrati dell'andamento nel mese quanto avete speso quanto avete guadagnato di cashback e quanto avete risparmiato nel caso avete fissato degli obiettivi perché noi possiamo anche con hype fissare degli obiettivi di risparmio quindi ci creiamo diciamo una sottocartella dentro il nostro saldo in cui periodicamente decidiamo noi ogni quanto e che cifra ci verrà prelevato qualcosa dal saldo per metterlo in questo diciamo porcellino virtuale per arrivare all'obiettivo di risparmio che abbiamo fissato tipo per esempio una vacanza mettiamo che vogliamo fare una vacanza ad agosto vogliamo aver risparmiato 1000 euro impostiamo questo obiettivo e hype un po' alla volta ci preleverà qualcosa dal saldo per raggiungere questo obiettivo nel caso comunque ci riservissero sul saldo principale ci le possiamo tranquillamente rimandare e poi sotto avete tutta la lista dei movimenti e quindi possiamo tenere tutto sotto controllo poi se clicchiamo su uno abbiamo anche tutti i dettagli di quella operazione qua abbiamo i pagamenti e appunto paga in negozio dove possiamo pagare in un negozio geolocalizzato utilizzando lo smartphone qua abbiamo il bonifico possiamo aggiungere un destinatario con le coordinate bancarie in rubrica o compilare i campi e appunto fare un bonifico mettendo l'iban e il nome del beneficiario l'importo, la causale e la data di esecuzione quindi facciamo il bonifico gratuitamente qua c'è il pagamento bollettini potete pagare bollettini in bianco quindi qui riempite tutto oppure un premarcato di tipo 674 o 896 e potete anche usare l'autocompilazione con la fotocamera inquadrando il codice a barre ci sono i MAV ci sono i RAV e c'è anche Pagopa e Cibil per pagare e prenotare bollette emesse da aziende private e pubbliche che si sono convenzionate con le banche del consorzio CBI e potete inserire i dati manualmente o inquadrare il codice QR con la fotocamera qua ci sono i dati della carta non l'ho aggiunto Google Pay ma volendo posso farlo da questo pulsante quindi codice esteso data di scadenza intestatario e dietro c'è il CVV e quindi vi dicevo ho tutto anche in app per fare i pagamenti online anche se non ho dietro la carta fisica qua vedete posso attivare o disattivare i pagamenti tutti insieme o uno alla volta semplicemente facendo tap qui sull'interruttore abilitando o disabilitando per gli acquisti online o gli acquisti in negozio o i prelievi all'ATM poi qua avete nel menu se volete fare l'upgrade al piano successivo nel mio caso il premium potete a vostra volta invitare amici da qua poi leggetevi i vantaggi qua c'è il pulsante per l'aiuto e qua ci sono il rivilogo dei vostri dati quindi IBAN quanto avete usato rispetto ai limiti del vostro piano statistiche informazioni personali c'è anche il calcolo della gestenza media quindi nel caso ne abbiate bisogno per l'ISE le coordinate bancarie che abbiamo visto prima documenti qua potete anche modificare la password o anche farvi delle notifiche personalizzate è tutto estremamente semplice e chiaro qua c'è l'assicurazione al momento per veicoli o per smartphone e qua ci dice vedete viaggi spesso file upgrade parti tranquillo con premium per i vantaggi che vi dicevo prima quindi qua potete farvi fare un preventivo per l'assicurazione sullo smartphone o sui veicoli c'è anche la ricarica telefonica direttamente in app voi mettete l'operatore telefonico il numero di telefono da ricaricare l'importo e con veramente quattro clic fate una ricarica poi qua c'è la sezione offerte appunto con i cashback che potete ricevere quando acquistate presso questi negozi partner mettiamo che fate una prenotazione su booking voi scegliete booking su hype ad esempio ma è analogo con gli altri e sotto vedete vi indica la percentuale che riceverete per quell'acquisto nel caso di booking un 3% nel caso di un euro 2 eccetera e qua su ci sono anche le categorie oppure potete usare la ricerca in modo molto semplice quindi voi cliccate sul partner vi fate reindirizzare con questo pulsante atterrate sul sito del partner fate l'ordine e ricevete un cashback su hype che potete riusare per la prossima volta o per altri acquisti poi io in realtà anche se questo è molto comodo utilizzo un altro sito per avere sconti sui miei acquisti o per aumentare il mio potere d'acquisto ve lo lascio qui sotto in descrizione poi quando non posso usare quello vado a cercare qua ed infine vedete come vi dicevo all'inizio c'è anche la possibilità di creare un portafoglio bitcoin questa è una funzione beta che è disponibile solo per i premium e per i plus io ce l'ho in questo momento poi sarà per tutti e vi faccio vedere intanto come funziona quindi voi cliccate qua su bitcoin e lui vi fa creare con veramente 4 passaggi un portafoglio bitcoin qui su hype grazie alla partnership con conio quindi clicco qui su attiva gratuitamente accetto termini e condizioni ok ed eccolo qua qua posso vedere l'andamento del prezzo di bitcoin e qua trovo il mio indirizzo pubblico come lettere e numeri o equivalentemente come QR code che posso dare per ricevere bitcoin per depositarli quindi io su hype posso anche comprare e vendere bitcoin inviarli o riceverli e qui c'è il seed quindi la chiave privata per ripristinare casomai il wallet qui possiamo vedere i limiti di acquisto o vendita che ci sono da qui potrei condividere l'indirizzo pubblico e poi adesso ho poco saldo caricato dentro hype ma qua potrei comprare ad esempio bitcoin e scrivere la cifra o in euro o nell'equivalente in bitcoin e vedete che si possono acquistare minimo 10 euro in bitcoin da qui potremo vendere e qui vediamo il saldo in bitcoin che abbiamo su hype ragazzi con questo è tutto hype straconsigliata vi lascio qui sotto in descrizione il mio link d'invito per avere il bonus di benvenuto corrispondente al piano che sceglierete un bel like se il video vi è stato utile iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo come al solito al prossimo video ciao a tutti iscrivetevi al canale grazie a tutti